Connie! Ted! È così che fai le spese con Judy nel Connecticut? Tu che ci fai qui? Vabbè, ti ho vista dal finestrino della macchina. Per puro caso. Su, serio? È singolare, non credi? Singolare? Ci stai andando a letto da mesi, non è vero? Senti, te lo volevamo dire. Quando? Quando, quando, quando ci trasferivamo a Londra? No. Il tuo sogno, che ci trasferissimo a Londra. È successo e basta, abbiamo cercato di resistere. Sì, me lo immagino, in ogni albergo, su ogni materasso, sui sedili di ogni macchina. Non è questione di sesso. È sempre questione di sesso, tutto è questione di sesso. D'accordo. L'economia è questione di sesso. Ok, non intendo avere questa discussione con te per strada. Tu, col mio migliore amico, è un tale cliché, non ci posso credere. Non te la prendere con Larry, lui ti adora, si identifica con te. Lo so, usa il mio dopo barba e mia moglie.